Oggi avevo un forte mal di pancia, così vado subito in bagno. Prima di sedermi apro la finestra per far areggiare un po'. Ma proprio in quel momento realizzo una cosa. Non mi piace il panorama fuori. Provo a guardarlo da varie angolature, ma proprio niente, wagyu. Così decido di rimediare. Scarico una foto, la stampo e la incollo fuori. Ma mi rendo conto che ha già fatto una stronzata. Sono disperato, mal di pancia e mai avrei pensato nella mia vita di prendere la questione con una finestra. Ma non de mordo, così ricerco su internet dove trovare bei paesaggi dalle finestre. All'improvviso mi sbuco un video. Cioè, a Bologna apri la finestra e ti trovi su un fiume. Ma com'è possibile? Wagyu, senza perdere tempo, decido di partire. Così di fretta e fuori scendo le scale. Vado alla stazione, prendo il treno e ascolto musica. Mamà! Il tempo di una brutta figura che arriva a Bologna. Ma non so dove andare. Mi sento spaisato. E proprio mentre sto per perdere mi vedo una macchina in lontananza. Provo a fare autostop. Che c***o sei formato! Gli dico dove devo andare. Lui mi invita a salire. Il ragazzo non dice una parola per tutto il viaggio. E l'unica cosa che fa è... Così mi porta a destinazione. Lo saluto. Due passi più avanti. Eccola. La vedo. Mi avvicino alla finestra. La apro. Non ci posso credere. Ma allora esiste davvero. Proprio come nel video. Che pace. Che rilassamento. Maggio fatta sotto.